John Borno, John Borno, John Borno ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ci tenevo a fare questo video per fare un po' di chiarezza e anche per fare un po' di pagelle di quello che è successo ieri nella partita dell'Italia, ma soprattutto per fare un po' di chiarezza, perché secondo me era importante, fondamentale, fare un po' di chiarezza e cercare di capire. Perché ieri sotto il mio video ho letto commenti che non è che mi abbiano troppo convinto, infame, vergognati, populista, falso, ipocrita. Perché? Perché mi sono permesso di giudicare i fischi dei tifosi del Milan a Donna Roma. Ora io voglio fare chiarezza, prima di iniziare come sempre se vi va vi invito a lasciare mi piace, iscrivervi al canale e a supportare il progetto. Allora, voglio fare chiarezza principalmente perché cosa? Voglio fare chiarezza perché? Perché io credo in generale che ognuno abbia la propria opinione, io non voglio cambiare la tua, tu che mi stai guardando, io non ho nessun obiettivo nel cambiare la tua. La mia ambizione non è farti pensare che i fischi siano stati sbagliati, se tu pensi che i fischi siano stati giusti puoi tranquillamente pensarlo. Io penso un'altra cosa, io credo sostanzialmente che Donna Roma sia un infame, credo che sostanzialmente che Donna Roma doveva tanto al Milan, il Milan ha dato tanto a Donna Roma, ma Donna Roma non ha dato nulla al Milan e questa non è una cosa bella, non è una cosa assolutamente accettabile e non è una cosa assolutamente, diciamo, perdonabile a Donna Roma. Se i milanisti avessero fatto trovare uno striscione, a parte uno striscione l'hanno fatto trovare, ma uno striscione fuori dallo stadio che ho scritto Gigio, la Milano rossonera ti odia? Io non avrei detto nulla, uomo di merda, non avrei detto nulla, assolutamente niente, non era nessun problema, non era problema mio, non avrei parlato. Ieri però Donna Roma indossava la maglia della Nazionale e la Nazionale non è il Milan, ieri non ha giocato il Milan. Io capisco che qualcuno dice è tornato a San Siro, ma non c'entra un cazzo, ieri i tifosi che sono entrati allo stadio dovevano entrare per sostenere la Nazionale, Fischiare, a mio modo di vedere, è assolutamente un diritto. Chi va al teatro ha la possibilità di fischiare se lo spettacolo non gli piace, quindi io non sono qui venuto a dirvi cosa è giusto e cosa è sbagliato. Ognuno sceglie la propria strada, ok? Fatto sta che comunque si fischia quando è giusto fischiare. Se Donna Roma avesse detto l'Italia non mi merita, i fischi sarebbero stati assolutamente giusti, perché tu stai fischiando un giocatore per una dichiarazione fatta con la Nazionale Italiana. Donna Roma rappresenta la Nazionale Italiana. Cosa ha fatto Donna Roma contro la Nazionale Italiana? Ve lo dico io, esattamente niente. Donna Roma non ha fatto niente contro la Nazionale Italiana, ha fatto solo cose positive. Ci ha portato a vincere l'Europeo, parlando di rigore decisivo, e si è dimostrato, blasfemia forse sì, però all'Europeo si è dimostrato all'altezza del buffon del Mondiale 2006, perché questo ha fatto che vi piaccia o che non vi piaccia. Quindi questo è, punto e basta. Ripeto, io non sto dicendo che non deve essere fischiato. Per quanto mi riguarda i fosi del Milan fanno bene a fischiarlo quando capiterà Milan-Paris-Angermain. Fanno benissimo, ma ieri non giocava il Milan. Avete messo la vostra squadra davanti a tutto. E non è una cosa accettabile, per me è una cosa inaccettabile. Io spero, io spero che la Federazione Italiana prenda delle decisioni e dica la prossima volta a Milano non si gioca. Scegliamo un'altra città, perché se dobbiamo andare a giocare a Milano con i tifosi che fischiano ogni volta che Donna Roma tocca il pallone, allora non ci andiamo. Fatemi capire una cosa, ma ogni volta che la Spagna segnava il tifoso del Milan godeva, perché Donna Roma aveva appena preso un gol. Allora siete andati lì per fare cosa? Per gufare l'Italia. Sostanzialmente avete fatto questo. Poi sia chiaro, ieri il pubblico era pessimo. Cioè non focalizziamoci solo sui fischi di Donna Roma, poi parliamo anche della partita, se no sembra che parliamo solo dei fischi di Donna Roma. Fischiare l'inno di una nazionale, ragazzi. Fischiare l'inno di una nazionale. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè ma non succede veramente nemmeno nei peggiori bar di Caracas. Nel 2021 ancora si fischia l'inno di una nazionale che rappresenta una nazione. Ma veramente ragazzi? Ma che siamo? Nell'antiguera. Ma dove siamo? Ma quanti anni siete andati dietro? Cioè ma veramente c'è qualcuno che vuole dire, che vuole difendere un determinato gesto? Ma di che cazzo dobbiamo parlare? Io non ho parole. E sia chiaro, l'Italia non ha perso per i fischi a Donna Roma, perché poi si travisa una cosa che non è assolutamente corretta a mio modo di vedere, nel mio modestissimo parere, nel mio orticello di video in cui sto parlando io. Non è che l'Italia abbia perso per i fischi a Donna Roma. L'Italia ha perso perché? Perché tatticamente, difensivamente è stata pessima, perché Bastoni si perde in marcatura Ferran Torres sul primo gol, e lì è un errore grave di Bastoni. Non è cattivario perché poi Bastoni fa una partita sostanzialmente sufficiente, ma quell'errore secondo me lo fa sprofondare nell'insufficienza, perché è un errore che pesa. Perché Bonucci si fa buttare fuori, arbitro non arbitro permettendo, anche perché a noi gli arbitri ci odiano tutti, veramente è clamoroso, sembra che gli arbitri a noi ci scegliano con, con, non lo so, Ambrimbroi a 1-2-3, alla fine sceglie l'arbitro che ci deve odiare a noi, perché veramente sembra fatto apposta, però Bonucci fa l'errore gigantesco, insegna che si mangia il gol sottoporta. Lì ragazzi, lì ho capito che sarebbe finita ieri la striscia di risultati utili consecutivi, perché tu non puoi continuare a fare questo, perché non puoi continuare a fare questo. La partita si è messa davanti a certi binari, poi la Spagna è una buona nazionale, cioè ricordiamoci che noi abbiamo vinto l'Europeo, ma che loro sono arrivati in semifinale, e che li abbiamo fatti fuori solamente calci di rigore, dopo un pareggio che a loro andava molto stretto. Quindi questa secondo me è una cosa appurata, che la Spagna fosse una buona nazionale, è una cosa appurata. L'Italia è rimbatturata da tantissime gare, abbiamo perso, ricomincieremo a rodare. E lo vorrei fare direttamente dalla finalina, che avverrà tra qualche giorno. Detto questo facciamo le pa-pa-pa-pa-pa-pa, gelle. Fatemi sapere ovviamente che ne pensate sul discorso Donnarumma, perché sono molto curioso di sapere il vostro parere. Donnarumma, Donnarumma 5,5, non è stato, secondo me, non era facile in realtà, con tutti i fischi, eccetera, addirittura ho visto che a un certo punto Busquets è andata ad abbracciare Donnarumma, eccetera, di che cazzo stiamo parlando? Cioè di che cosa stiamo parlando? Per farvi capire, Busquets è andata ad abbracciare Donnarumma, perché tutti lo abbiamo, ma di cosa stiamo parlando? Di base comunque sui gol, secondo me non può nulla, fa una grande parata, 10 dalla fine su Marco Salonso, lì sparato in porta, che poteva chiudere del tutto la gara, però dall'altra parte vi dico che fa una mezza cappella, non so, avete visto la palla di Esciola, meno male che la palla ha preso il palo, quella era una pavera grande, che avviene soprattutto per i fischi, questo sì ragazzi, questo assolutamente sì, e non mi venite a dire, ma se sei un campione i fischi, no ragazzi, i fischi può essere pure Gesù Cristo, i fischi danno fastidio a tutti, i fischi soprattutto nell'ambiente in cui sei cresciuto, te fanno male, poi ovviamente nell'ambiente in cui sei cresciuto, giocando contro il Milan, ma io non è che, ve lo ripeto, io non è che nego il fatto che i fischi siano giusti, è la situazione, perché tu mai destabilizzato la Nazionale, era la Nazionale ieri, ci giocavamo la finale, la cesta in finale, in casa di Nations League, questo a me importava, per il resto non me ne fregava un cazzo, la Nazionale italiana non è il modo dei tifosi del Milan per andare a fischiare Donnarumma allo stadio, trovatevi un modo vostro, ma noi non siamo il vostro modo, detto questo io ve lo dico chiaramente, perché non sono un ipocrita, non mi ritengo ipocrita, se, che cazzo ne so, Pellegrini valla a Juventus, e poi una giocata a Roma in nazionale, io, io, Sikwolf, io Simone allo stadio, non lo fischio, non lo fischio, se Zaniolo va a giocare alla Lazio, Roma-Lazio, io Zaniolo lo distruggo di fischi, lo spacco di fischi, gli urlo tutto quello che gli voglio urlare, in nazionale a Roma, io Zaniolo non lo fischio, questo è il mio modo di operare, perché qualcuno ha anche detto, eh ma un uomo de merda, con una maglia azzurra, rimane comunque un uomo de merda, sì, ma rappresenta la maglia azzurra, quindi l'uomo de merda, per quanto mi riguarda, in quel momento non va fischiato, perché sta difendendo un mio ideale, sta facendo sì, che io possa essere contento per una cosa, punto, e basta, comunque, andiamo avanti, Di Lorenzo non mi ha fatto impazzire, a Di Lorenzo gli do 5, Ollar Zabal ha fatto il cazzo che voleva, lo puntava continuamente, tant'è che penso che, sì, sono quasi sicuro che entrambi i gol siano arrivati partendo da sinistra, e è un peso pazzesco, se pensiamo appunto a quello che poi Di Lorenzo non è riuscito a tamponare nella gara di ieri, bastoni 5, perché la partita è tutta sufficiente, tranne quell'errore lì, ma quell'errore lì indirizza la partita, e quindi assolutamente 5, male, male, male in quella, in quell'occasione, bonucci 3, ragazzi, non è cattiveria, perché comunque, vi ripeto che il primo giallo, secondo me, non c'era, però l'espulsione è abbastanza ingenua, dai una gomitata, in faccia 1, c'è il rischio che ti dia il giallo, quindi lo sai, il gomito alto non va mai tenuto, soprattutto dopo che hai preso già un giallo, soprattutto se c'hai 20 anni alle spalle di carriera, lo sai benissimo che il gomito alto non va mai tenuto, e poi la partita la perdiamo, soprattutto per causa sua, per causa della sua espulsione, perché con la sua espulsione l'Italia crolla. Dall'altra parte gioca Palmieri, e a Palmieri do un... Allora, forse do un 6 meno o meno, in realtà la gara di Palmieri è buona, era anche da 6, 6 e mezzo, perché comunque ho visto che quando l'Italia attaccava, attaccava sempre dalla parte di Palmieri, l'ho visto, non dico come Spinazzola, perché non c'è proprio Paragone, però un minimo, diciamo che l'impronta era quella lì, l'impronta c'era, il problema qual è? Il problema è che sullo 0-2 è Ferran Torres che taglia davanti a Palmieri e Palmieri se lo perde, poi, non so se quell'uomo fosse di Palmieri, perché Mancini dopo il rosso di Bonucci non ha fatto cambi, e quindi non si sapeva chi giocasse difensore, stavamo a giocare a tre chiterzini, cor centrale e basta, è stata una situazione un po' particolare, però comunque l'errore lì sul 2-0, il 46esimo del primo tempo è il suo. Per quanto riguarda i centrocampisti, allora, a Giorginio gli do un... un 6, un 6, dai, l'ho visto abbastanza volenteroso, cioè ha provato, ha lottato, ha preso tanti schiaffi, il 6 ci sta. male gli altri due, a dirvi la verità, a Barella gli do anche 4,5 in realtà, ma in realtà semplicemente perché Barella è un po' il polmone dell'Italia, è quello che è su tutti i palloni, che oltre a dare una grande dose di qualità, mette in campo anche un'importante quantità, un'importante presenza quantitativa, quella che dà Barella in campo. Ecco, ieri, secondo me, la presenza quantitativa Barella non l'ha data, io non l'ho visto praticamente mai, e questo è un peso. Verratti gli do 5, anche Verratti male, tra Koch e Busquets, Verratti non l'abbiamo visto praticamente mai, ha faticato tanto, ha perso tanto il passo, peccato, peccato perché comunque, perché comunque mi aspettavo sicuramente di meglio, meglio assolutamente i subentrati, Calabria 6,5, da quando è entrato abbiamo cominciato ad attaccare, rapidamente di corsa, l'ho visto voglioso, palla al piede, bene Calabria, Pellegrini 6,5, anche con il suo ingresso, l'Italia cambia, a parte ha fatto il gol, ma il gol è tutto merito di chiesa, però l'Italia cambia anche con il suo ingresso, è molto importante in fase qualitativa, Locatelli 6, da Verratti a Locatelli, anche qua la differenza si vede, Locatelli non fa niente di eccezionale, in quei, che so, 30 minuti, 31 minuti, 35 minuti, vogliamo contare Pupro che gioca, però più o meno, la gara di Locatelli non è pessima, anzi, credo che l'Italia abbia cambiato qualcosa, con l'uscita di Verratti, e l'ingresso del centrocampista bianco-nero, per quanto riguarda l'attacco, Bernardeschi gli do 5,5, 5 più, allora, Bernardeschi non si è visto, è stato impalpabile, Bernardeschi non ha toccato un pallone, anzi, uno ha toccato e ha preso il palo, è per questo che magari gli do qualcosina di più, però di base ragazzi, parliamoci chiaro, per il resto non si è visto mai, 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 ah, poi al suo posto è rientrato Chiellini, me l'avevo scordato, gli do 6,5, regà, Chiellini è ovunque, a un certo punto ho visto un attacco, ho detto, che cazzo fa Chiellini in attacco, Chiellini è uno che serve sempre, alla nazionale Chiellini, Giorgio Chiellini serve come il pane, è impossibile, non calcolare Chiellini per questa nazionale, per me ci deve essere sempre Chiellini, in signe male, 4, in signe 4, mi dispiace in realtà, voti così pesanti non sono belli, però ragazzi la sua partita è leggibile, semplicemente dal gol davanti alla porta che si mangia, quello lo segnavo anch'io, ed è un tutto dire, e se segni quello la partita cambia da così a colà, e purtroppo non è più riuscito a cambiare rotta, non ha più riuscito a fare nulla oltre quello, e quindi c'è poco da dire, Ken 5,5, l'ho visto poco, quel poco che l'ho visto non mi ha entusiasmato praticamente mai, no, non bene, non bene, Ken forse dall'inizio avrebbe fatto un po' meglio, però non benissimo, Chiesa 7, Chiesa 7, ce la mette tutta, corre per 95 minuti, serve il pallone da Lorenzo Pellegrini, quel gol è tutto il suo, Chiesa è un signor giocatore e continua ad esserlo, a Roberto Mancini, do 6, come dico sempre, le sconfitte dopo un record molto lungo, servono a tracciare la linea, 3 anni di vittorie, 3 anni di vittorie e pareggi, 37 risultati utili consecutivi, finisce oggi, anzi ieri in realtà la striscia di Roberto Mancini, e ci sta, e ci sta, è andata male, è andata male, ma secondo me ha poche colpe, su Bonucci poteva poco, forse avrei messo Chiellini per bastoni, però comunque più o meno la situazione è quella, gli mancava Immobile, gli mancava Belotti, gli mancava Spinazzola, mancanze importanti, il centrocampo era quello titolare, e davanti di alternative non ne aveva, quindi la situazione più o meno era bloccata, e già il fatto di essere riuscito comunque a tenere testa la Spagna, di essere stata giocata in 10 uomini fino alla fine, di averla rivoluzionata nel secondo tempo, di aver azzeccato le scelte, con l'ingresso di Chiellini la difesa 3, aver dimostrato di poter essere versatile, insomma sono tutte cose che secondo me meritano dei complimenti, bravo Roberto Mancini, detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate tantissimi mi piace, mi raccomando ragazzi, dai dai dai, che arriviamo a 450 mila iscritti, Buocela all'Alene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video!